Il settore dei veicoli commerciali elettrici probabilmente è uno dei settori che deve essere cambiato più velocemente infatti moltissime delle nostre merci che vengono consegnate ogni giorno vengono trasportate attraverso camion o dei furgoni e pochissime aziende si stanno concentrando su questa tipologia di veicoli elettrici ma una in particolare si fa notare in mezzo a tutte le altre Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video Oggi vorrei parlarvi di Arrival ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale che mi farebbe davvero tanto piacere e farebbe vedere questo video a molte più persone Grazie mille Arrival è una compagnia inglese fondata nel 2015 da David Sverdlov un ex imprenditore russo delle telecomunicazioni Questa azienda ha come quartier generale Londra ma negli ultimi anni ha espanso i suoi orizzonti verso altri paesi tra cui possiamo trovare ovviamente gli Stati Uniti dove hanno scelto il North Carolina come sede americana Questa azienda come dicevo esiste già dal 2015 ma nel 2020 ha visto la sua crescita più grande infatti possiamo dire che appunto il 2020 è stato un anno di svolta per Arrival Già a gennaio venne reso pubblico un round di investimenti da parte di Hyundai e Kia per un ammontare di 100 milioni di euro per accelerare l'adozione di veicoli commerciali elettrici mentre ad ottobre ricevettero un investimento di 100 milioni di euro dal fondo di investimento americano BlackRock Grazie a questi investimenti e alla quotazione in borsa venuta a marzo con il simbolo ARVL sul Nasdaq Arrival viene valutata a 3 miliardi di euro Questo ovviamente fece sì che diverse aziende si interessarono ai veicoli elettrici di Arrival tra cui abbiamo un ordine di 10.000 van elettrici da parte di UPS Questi veicoli verranno poi utilizzati in tutta Europa e Nord America prima del 2024 come piano di elettrificazione di tutta la flotta UPS È stato riportato che questo ordine di 10.000 van elettrici da parte di UPS sia costato ben 400 milioni di dollari e una percentuale di Arrival Non è ancora stato detto quale percentuale di Arrival ma fa capire quanto le due aziende si siano comunque legate una all'altra Questi van verranno infatti personalizzati per incontrare tutte le necessità che un van UPS potrebbe incontrare Un po' come succede con Rivian e Amazon per quanto riguarda i van elettrici Ecco ne ho fatto un video, il mio ultimo video, se volete andarlo a vedere mi farebbe davvero piacere Ecco per quanto riguarda invece i veicoli che Arrival ha intenzione di lanciare sul mercato ne abbiamo solamente due Il primo è un furgone per le consegne a cui accennavo anche prima appunto Questo van dovrebbe arrivare con quattro diverse configurazioni per andare incontro alle necessità di ciascuna azienda che dovesse scegliere Arrival come fornitore di furgoni per le consegne Essendo un van la capacità di carico si dimostra essere molto importante e se Arrival dovesse rispettare quello che viene dichiarato potrebbe essere un rivale diretto di un veicolo a combustione interna come un Fiat Ducato per esempio con una capacità di carico fino a 2100 kg Per quanto riguarda l'autonomia il pacco batterie più grande viene dichiarato essere intorno ai 130 kWh con un'autonomia stimata immagino a vuoto di 350 km Il secondo veicolo che viene proposto da Arrival è un autobus cittadino Purtroppo non sono state date ancora delle specifiche tecniche per quanto riguarda questo bus ma sappiamo che verranno testati questo autunno in alcune città inglesi Questi autobus sono stati creati appunto nel 2020 i prototipi e sono stati creati con l'idea del mondo che verrà dopo la pandemia Perciò materiali innovativi, divisorie tra i sedili, sanificatori all'entrata dell'autobus e quindi risulta essere un veicolo molto moderno Un fattore che sicuramente distingue Arrival da molti altri produttori automobilistici è che non avranno una singola grande fabbrica per la produzione dei propri veicoli commerciali ma si baseranno su quello che viene chiamato microfabbrica o microfactory che verranno costruite o allestite direttamente nelle città che richiederanno questi veicoli Ecco, per comprendere la scala di queste microfabbriche possiamo dire che una fabbrica come quella di Tesla a Fremont in California è di circa 500.000 metri quadrati mentre una microfabbrica Arrival non arriverà a superare i 10.000 metri quadrati stando a quello che Arrival appunto ha dichiarato L'idea di Arrival è quella di avere invece che una catena di montaggio creare delle celle di montaggio nella quale i pezzi necessari vengono trasportati da veicoli che si muovono autonomamente e vengono in seguito assemblati da dei robot non facendo muovere così il veicolo fino ad assemblaggio terminato Arrival oltre ad essere un produttore di veicoli elettrici commerciali si occupa anche di quello che riguarda un po' la guida autonoma infatti da qualche anno l'azienda ha iniziato questo progetto chiamato Robo Race in cui l'azienda mette a disposizione alcuni veicoli creati appositamente per la guida autonoma e sfida alcune delle più grandi università del mondo a gareggiare su chi è in grado di costruire l'algoritmo di guida autonoma migliore questo chiaramente porta innovazioni ad Arrival ma soprattutto viene fatto per assicurarsi le menti più geniali e fresche del settore ecco fatemi finire solamente questo video dicendo due parole di quello che penso io su Arrival trovo che sia una cosa molto furba partire vendendo solamente ad aziende con già un'estesa flotta di veicoli più che altro per questa incognita delle microfabbriche che potrebbero essere rivoluzionarie come potrebbero essere il problema più grande che l'azienda possa mai avere nel caso questa idea appunto non funzionasse abbiamo già visto banalmente Tesla ha rischiato già più volte di andare in bancarotta per problemi di produzione nel loro caso la vendita sarebbe a delle grandi aziende che hanno magari meno aspettative rispetto a un cliente privato che necessita di un singolo furgone le consegne di questi furgoni elettrici dovrebbero iniziare dal terzo quadrimestre dell'anno prossimo quindi 2022 perciò per ora è un'azienda che esiste ma si deve ancora mettere davvero in moto per creare qualcosa che sia tangibile ecco questa era Arrival io vi ringrazio tanto per aver visto questo video non dimenticatevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale che mi farebbe davvero tanto piacere e noi ci vediamo in un prossimo video ciao